ad oggi questa srl quanto fattura annualmente ho perso portafoglio no allora allora questa domanda qui dipende dal periodo perché l'anno scorso ero arrivato tanto faccio anche il video non è un problema ero arrivato a 200 quasi 300.000 di fatturato però io parlo solo di youtube eh esatto e adesso infatti sono un po' in ansia se fare il video quest'anno c'è i sponsor no no che l'anno scorso ce li avevo solo con youtube quest'anno solo con youtube quest'anno ho già superato i 100k solo youtube senza sponsor però gli sponsor in 8 mesi praticamente quindi sei sopra i 10.000 euro il mese solo da youtube e poi c'è tutti gli sponsor che è la fetta più grossa eh esatto quest'anno infatti diciamo che sono sotto il milione ma ci sei vicino ma sono sopra i 300.000 eh no eh no no dai sei vicino al milione però dai lo puoi dire dai vicino al milione eh no figa te lo sarei contento di dirtelo però il milione non lo tocco sicuramente ok ok 7800 dai vabbè ma che ne pensi diciamola così quasi ci sei arrivato dai che ne pensi del modello di Mr Beast che lo sta facendo lui che sta veicolando tutta la visibilità che ha in tipo prodotti di consumo eh tipo tavoletti di cioccolato hamburger e eh gli hanno fatto già una proposta di un miliardo te pensi di un futuro di prendere una strada simile quindi di veicolare tutta la visibilità anche vendendo prodotti creando un tuo marchio guarda ti posso già rispondere sì sono già alle fasi finali dell'uscita del mio primo gioco in cartone per questo Natale ok non so se eh non so se svelarlo quando è che esce il podcast eh non lo so ancora non lo so non te lo so dire hai una data vabbè ma prima di Natale prima di Natale allora eh praticamente vabbè non spoilerò che cos'è però vi faccio arrivare più o meno ho creato un gioco cioè non io ovviamente ma è da tavolo aspetta aspetta è come se tu compri il Monopoly ok lo apri e tu puoi costruire in 3D con il cartone già pretagliato una delle costruzioni che io ho fatto figata no ma è una roba pazzesca poi ci sono tutti gli ingranaggini tutte le cose e c'è anche tipo il piccolo Michele Molteni che puoi usare ma infatti no no Marco guarda lascia perdere bellissimo bellissimo io quella strada lì di Mr Beast la voglio completamente copiare eh cavolo ma tu stai scherzando ma invece proprio prodotti di consumo tipo cose che si mangiano cose che la gente poi compra allora il problema è che siamo in Italia secondo me il problema principale in America se qua non puoi fare praticamente qualsiasi cosa ti vengono contro no vabbè lo sappiamo si 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 hai voglia di fare vabbè scusa crea un tuo marchio crea un tuo marchio pezzo di merda ti blocco subito vabbè crea un tuo marchio su qualcosa lo puoi fare no 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 certo ma che in ambito alimentare insomma no però quante autorizzazioni certificati a livello europeo a livello ma c'è soprattutto in Italia col cibo però quanti soldi capito cioè devi pensare vediamo adesso Fedez e Lazza cosa fanno con questa bottiglia bohem cioè vediamo dove arrivano però allora a livello di consumo così penso di non di non far nulla a livello di cose che non vengono ingerite probabilmente sì tipo prima della del gioco in cartone madonna stavo per dire cosa stavo facendo prima del gioco in cartone volevo fare la cassetta degli attrezzi è bella ci sta è cazzo la cassetta degli attrezzi di Michele Molteni col marchio con le robe magari in futuro poi posso anche farlo la metti nel tuo nel tuo brico esatto io piuttosto vorrei puntare su una cosa che sicuramente fa guadagnare meno e c'è molto più casino perché figurati un prodotto che vende online fatto bene spinto giusto guadagni molto più di un brico che devi stare lì prendere capannoni gente che lavora casini però la soddisfazione di avere uno stabile che entra la gente è troppo impagabile poi secondo me una volta che hai un canale come il tuo che è un vero e proprio asset è 1,15 milioni di iscritti è un pubblico che poi non è è un pubblico che ti segue è proprio una vera e propria fanbase la devi sfruttare al massimo bravo inirnare la cosa per non è spennare non è che un canale così se lo crea dal giorno alla notte c'è sudore sacrifici perseveranza dedizione è anche giusto puoi saper sfruttare appieno questa creazione più che altro è l'assetto più importante che c'è l'attenzione quella è la cosa che viene prima di tutto è quella che vorrebbero tutti è capito è qualsiasi azienda brand gigante esattamente allora secondo me rimaniamo sempre lì se noi fossimo in America adesso io avrei già fatto tutti questi passi qua perché è molto più facile il commercio molto più facile aprire aziende molto più facile fare qualsiasi cosa ok in Italia sei sempre bloccato quindi ogni cosa che fai devi stare attento e questo e quell'altro è casino cioè spedici un pacco arriva dopo una settimana e mezza rotto ma cazzo cioè che palle ti passa proprio la voglia di fare capito a me no chiaramente per fortuna però c'hai tanti bastoni tra le ruote e secondo me questo è anche il motivo per il quale in Italia nessun creator fa tutte queste cose qui cioè la gente fa il merch ho capito ma il merch raga dai o sei Danny Duncan salutiamo King Ash ciao King no va bene fare il merch anche io all'inizio ho fatto i cappellini mi piacerebbe comunque rintrodurre anche il merch magari con le felpe eccetera ma lì non è che fai i soldi anche noi volevamo fare il merch ho capito ma quanti soldi fai ma non è non ti fa per soldi bravo si fa per dare qualcosa al fan però però se al fan gli dà anche qualcosa di costruire allora